Ieri avevamo cominciato un po' ad affrontare le varie paste di zucchero, quindi come indurirle, come ammorbidirle. Devo ufficialmente scusarmi con Lucia perché avevo completamente frainteso. Ieri lei mi disse che usava il Crisco, io pensavo che lei intendesse dire che usava il Crisco per indurire la pasta di zucchero al posto del burro di cacao. In realtà lei diceva che la usava con la gun paste per ammorbidirla, quindi ciao Vale, ciao Romina, ciao Tiziana. Assolutamente sì, quando ad esempio fate i fiori il Crisco è molto utile perché la gun paste tende a seccare immediatamente, soprattutto in superficie, proprio per il discorso che ha una componente grassa bassissima, veramente bassissima. Quindi la superficie tende a seccare velocemente, mettendo il Crisco voi andate a, come si dice, ad ammorbidire, a reidratare la gun paste, esattamente come se vi metteste una crema idratante sul viso. Volevo farvi vedere due cose, per farvi capire, ieri vi dicevo le paste molto grasse, no? Soprattutto in inverno, adesso non siamo in inverno, le temperature si sono sicuramente un po' abbassate, ma sono comunque ancora abbastanza alte. Vi dicevo, le nostre paste di zucchero luxury, l'oro e l'argento, sono l'estremo della pasta grassa, nel senso che sono molto grasse. Questo perché? Ah, perfetta! Grazie Tiziana, grazie Rosa, grazie per la vostra risposta. Perché? Perché essendo perlate, l'unico modo che abbiamo per mantenere il perlato all'interno di una pasta di zucchero è che ci sia un'altissima componente di base grassa, ok? Quindi, il discorso qual è? Quando voi aprite un panetto di luxury, soprattutto in inverno, cioè la luxury si presenta, veramente, non so se vedete, faccio una grandissima fatica e praticamente non si muove, ok? Se però, questa è sempre la luxury, no? Se io riesco, ok, a spezzarne un po', io non so se riuscite a vedere com'è la pasta, tende a, vediamo un po' se riesco, eccolo qua, tende a screpolarsi, ok? A spezzettarsi tutto. Questo è ovviamente la parte grassa, il burro di cacao, perché anche il burro di cacao, quando voi lo andate a temperatura ambiente, si sgretola, si scheggia, si spezzetta. Però, poi soprattutto io con le mani molto calde, vi faccio vedere che basta veramente, sì, ci vuole un po' di fatica, però in, eccolo qua, in poco la pasta torna lavorabile, ok? A parte il fatto che adesso avrò tutte le mani argentate, e questa è proprio la caratteristica delle paste grasse, cioè, sono molto dure, ma si ammorbidiscono anche molto facilmente, ok? Proprio perché la parte grassa, voi l'andate a sciogliere, a riammorbidire, semplicemente col calore delle mani. Come vi dicevo ieri, le paste così grasse non vanno assolutamente messe in microonde, perché altrimenti il microonde vi tira fuori tutto il grasso e la pasta impazzisce. Quello che può succedere, a volte, è che quando voi aprite la, vi arriva la pasta, ora non è che parlo, cioè, in generale delle paste grasse, troviate come se fosse del burro, diciamo, fuori dalla pasta. E quello è normale, si vede che la pasta ha avuto un po' di calore, ha trasudato, ha tirato fuori il grasso e poi si è risolidificato a temperatura inferiore ai 20 gradi. Quindi non dovete fare altro che prendere e rimpastare la pasta e, di nuovo, diventa, ecco, vedete? Adesso io l'ho lavorata e quindi la pasta è di nuovo, è tornata, cioè, è morbida. Questa, invece, vabbè, che l'ho già colorata, però questa, invece, è, ad esempio, la mia super, che, come vedete, è una pasta che, comunque, tiene bene la forma, non è assolutamente grassa e non è così dura come succede, invece, con le paste a base, a base molto grassa. Una grossa differenza, ecco, poi c'è ancora un'altra pasta, un altro tipo di pasta, che sono, ad esempio, le gum paste. Le gum paste sono delle paste di zucchero, ovviamente, però con degli addensanti, degli stabilizzanti tali per cui la parte grassa è veramente ridotta ai minimi termini e sono, diciamo, specifiche per piccoli, piccoli, piccoli spessori, le gum paste per fiori, almeno la nostra è stata studiata per tenere spessori veramente molto, molto piccoli. E' questo. Vi dicevo che, ieri, vi dicevo che io, a volte, a parte perché voglio fare i test, ma poi, soprattutto nei corsi, eccetera, eccetera, mischio la pasta di zucchero, magari, con il burro di cacao o del cioccolato plastico. Questo per cosa? Per poter gestire, diciamo, meglio il fatto che la pasta mi asciughi velocemente. A me piace che la pasta asciughi, mi piace che diventi, una volta che ho finito il lavoro, molto, molto dura, ok? Però non è sempre, cioè, diciamo, che soprattutto se sto facendo un corso e quindi sto spiegando che cosa dobbiamo fare, magari cominciamo a fare un viso al mattino, dobbiamo finire e finiamo il pomeriggio, ovviamente se la pasta mi secca troppo velocemente, le ragazze hanno dei problemi a continuare il lavoro. Quindi può capitare, appunto, per comodità che io lo mischi. E un caso era lui. Lui è stato fatto con un mix di super e cioccolato plastico. La cosa, appunto, interessante è che io non mi ricordo quando è che l'ho pubblicato l'elfo, credo, comunque prima dell'estate, sicuramente sarà stato maggio, sì, maggio probabilmente. Quindi, quello che ci tengo a far vedere è che, vedete, l'orecchio, se io lo muovo, l'orecchio continua a muoversi, lo vedete? Cioè non è duro, ok? E se da una parte, ripeto, quando faccio i corsi mi viene bene, dall'altra io preferirei che questo fosse duro. Nel senso che alla prima botta di caldo, di umido, indubbiamente la possibilità che vado a rovinarsi è più alta perché non è indurito. Non è indurita, quindi ha mantenuto all'interno un tasso di umidità tale per cui la pasta, ripeto, ve lo rifaccio vedere. Vedete? L'orecchio si muove, la pasta non è dura, ok? Anche di qua, vedete? Riesco a muoverlo. Al contrario, e qua arriviamo, ora lui poverino ha preso un po' di... però, questo era l'uovo che ho fatto a, come si dice, a Pasqua, ok? A parte il fatto che, io posso toccarlo quanto voglio, questo non si muove, non so se riuscite a sentirlo, eh? Lo sentite? Il rumore, ok? La pasta è durissima, sembra ceramica, e vi posso garantire che non lo sto scalfendo minimamente, ok? Infatti lui, cioè io so che lui non mi cederà mai, ok? E questa è una delle grosse differenze tra le paste molto grasse e le paste non grasse. Cioè, le paste molto grasse tendono a rimanere, comunque, a non seccare mai completamente, ok? Perché il grasso contenuto all'interno, se da una parte mi dà una certa struttura, dall'altra comunque mi impedisce la perfetta asciugatura, ok? Ieri mi è stata fatta una domanda, che dico la verità, ho capito fino a un certo punto, nel senso, mi è stato chiesto, ma come fai a modellare con le paste non grasse? Perché io non ci riesco? Non l'ho molto capito il discorso, nel senso. E quindi dicevo, mi chiedevate come faccio a modellare con le paste non grasse. Allora, le paste non grasse, a differenza delle paste grasse, hanno, dal mio punto di vista, tante qualità, come vi dicevo, il fatto che seccano, il fatto che hanno un aspetto molto poco, non sono lucide, hanno un aspetto simile alla ceramica, simile alla porcellana fredda, si possono colorare molto bene, soprattutto dipingere, a fatto che non abbiate ovviamente le nostre be-painting, allora a quel punto potete dipingere su qualunque tipo di pasta di zucchero, però, a parte le battute, se dovete andare a sfumare, ad esempio, con dei coloranti in polvere, se la pasta è grassa e quindi risulta più appiccicosa, poi il fatto che non asciughi perfettamente, il rischio è che poi andiate a creare delle macchie. Questo non vuol dire che non si possa, però diciamo che sono i vantaggi e gli svantaggi di una e dell'altra pasta. Le paste non grasse hanno, indubbiamente, dei tempi di posa leggermente più lunghi, cioè, faccio una gambina per poterla infilzare, poi, per farla stare in piedi, con una pasta grassa ci metto molto poco, perché, come vi dicevo ieri, soprattutto il burro di cacao sotto i 20 gradi è solido, quindi io la tocco, cioè, maneggio la pasta, la pasta si scalda, quindi perde un po' di struttura, perde un po' di stabilità, se io la lascio lì 5 minuti, la pasta riprende un pochino la sua forma. Con le paste non grasse bisogna aspettare, magari, 15-20 minuti. Però, poi, come vi dicevo prima, una volta che la pasta è secca, non la levate più, ecco, non avete il problema, la paura che vi ceda. Ok? Io faccio questo lavoro ormai da 4-5 anni, vi garantisco che se ho buttato via dei topper, dei lavori, l'ho fatto solo per mancanza di spazio, non perché si sono rovinati o perché hanno ceduto, ok? Veramente ho di tutto, ormai non so più dove mettermeli, addirittura vi sono messo a fare i quadri per poterli appendere alle pareti, ma anche lì le pareti dopo un po' finiscono, quindi arriva un momento in cui li devo buttare via, ma, ripeto, non perché abbiano ceduto. Sul fatto delle, forse invece, quello che intendeva dire la ragazza quando mi ha fatto la domanda era come fai a modellare con le paste non grasse, nel senso come fai a coprire le giunture. C'era ieri Lucia che fa benissimo, può essere un po' di crisco o un po' di burro di cacao, scrivetemi e basta. Grazie, baci baci e buona giornata. Ciao!